Questa è una struttura, come si vede, per situazione di handicap e disagio psichico della provincia di Bolzano, del comune di Bolzano. In questa realtà hanno inserito 20 nuovi profughi, perché nelle zone e i piani oggi non c'è più posto per accogliere questi profughi. L'operazione Mare Nostrum continuerà, quindi saranno tante le altre strutture dei Bolzanini messe a disposizione per Mare Nostrum. Crediamo che questa situazione debba invece finire.